Eccoci su Sicilia 24, ben ritrovati, apriamo questa nuova edizione di Spazio e Notizia parlando di cronaca, partendo da Catania, i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un ventenne catanese in quanto gravemente indiziato di resistenza pubblico ufficiale. I carabinieri impegnati in un posto di controllo hanno controllato il giovane quando lo hanno visto transitare a bordo di un'auto insieme ad altre tre persone. Il ventenne ha però deciso di non fermarsi all'alt dei militari ma di accelerare e darsi alla fuga. In seguito dalla pattuglia per un breve tratto di strada durante il quale con la sua guida brusca ha messo in pericolo i numerosi utenti della strada, è stato raggiunto nei pressi di Piazza Europa dove il giovane, opponendo non poca resistenza, si è convinto a spegnere il veicolo. A seguito degli accertamenti è emerso che il ventenne era privo di patente di guida perché mai conseguita e l'autovettura è risultata priva di copertura assicurativa e di carta di circolazione. I militari, su disposizione dell'autorità giudiziaria, hanno sottoposto il ventenne all'obbligo di dimora nel comune di residenza all'esito della convalida dell'arresto. Restiamo nella Catanese ma ci spostiamo virtualmente a Caltagirone. I carabinieri della stazione di Granieri, frazione di Caltagirone, hanno denunciato un catanese di 30 anni per i reati di tentato furto aggravato e sottrazione di cosa sottoposta a sequestro. La denuncia è scaturita a seguito del tentato furto di circa 600 kg di uva asportati dal vigneto di un imprenditore agricolo calatino nell'arco della nottata. L'addetto alla vigilanza privata in turno ha notato la presenza di un veicolo che privo di targhe era fermo in modo sospetto all'interno del terreno agricolo. Una volta avvicinato si è notato che l'autovettura era carica di uva. L'intervento sul posto dei carabinieri ha consentito di restituire nell'immediatezza al proprietario il grande quantitativo di frutta rubato. Gli accertamenti sul veicolo rinvenuto hanno consentito di acquisire primi importanti elementi indiziari a carico dell'indagato. Difatti tramite il numero di telaio si è risaliti all'identità dell'intestatario del veicolo un trentenne di Catania già coinvolto in passato in reati della stessa tipologia che era stato nominato custode giudiziale dell'autovettura già sottoposta a sequestro per altri motivi. Ed ora invece cambiamo argomento, continuiamo a parlare di cronaca e ci spostiamo invece a Leonforte dove personale del locale commissariato ha proceduto alla perquisizione locale personale a carico di un giovane residente in un comune della provincia. Durante la suddetta attività il soggetto ha spontaneamente indicato al personale della polizia di stato la presenza di una stanza adiacente alla cucina dove era installata una tenda di colore nero con annesso, ventilatore di areazione, temporizzatore e lampada, attrezzatura indispensabile per la coltivazione di cinque piante di canapa indiana. Il giovane ha consegnato tutti i prodotti e gli strumenti indispensabili per la coltivazione. Gli agenti, oltre a sequestrare le cinque piante rinvenute e tutti gli altri oggetti sopra menzionati, ha denunciato in stato di libertà il proprietario della piantagione illegale. Ed ora invece a Palermo dove un medico è stato aggredito, un paziente, ha aggredito questo medico del pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. L'uomo ovviamente è stato denunciato dalle forze dell'ordine dopo che ha fratturato il setto nasale al medico. Questa dunque la notizia. Secondo una prima ricostruzione, entriamo quindi nei dettagli della vicenda, il professionista si trovava in servizio in una delle sale visita quando è stato aggredito da un gruppo di persone, sembra parenti di un paziente ricoverato, i quali eludendo la sorveglianza gli sarebbero piombati addosso. La dinamica è comunque in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Il medico aggredito è stato soccorso e trasportato in radiologia per un'attacca che ha rilevato le fratture guaribili in 45 giorni. L'azienda condanna con fermezza qualsiasi tipo di violenza nei confronti del personale sanitario, afferma la direzione strategica dell'azienda ospedaliera che si riserva di costituirsi parte civile in eventuali procedimenti. Ed ora invece ad Agrigento per parlare di un furto, un furto perpetrato nella notte all'interno del deposito di una ditta che si occupa della manutenzione degli impianti Enel per la provincia di Agrigento. I ladri hanno rubato 1.500 kg di bobine di cavi di rame e 600 kg di condutture in rame per un danno da 38 mila euro. Il capo cantiere dell'azienda, dopo aver scoperto il furto, ha presentato una denuncia a carico di ignoti presso la locale caserma dei carabinieri con i militari che si sono subito attivati per cercare di risalire ai malviventi. Restiamo nell'Agrigentino ma ci spostiamo virtualmente a Porto Empedocle dove è stato svolto un nuovo blitz della Guardia di Finanza presso il comune di Porto Empedocle dopo quello effettuato lo scorso 30 maggio. Secondo le indiscrezioni, sull'indagine al momento c'è il massimo riservo, nessuno ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, secondo le indiscrezioni dicevamo i finanzieri della locale tenenza avrebbero acquisito documenti e registri sulle presenze dei dipendenti comunali con gli orari di ingresso e uscita. Si parla di peculato e assenteismo, i militari della Guardia di Finanza avrebbero già sentito alcuni impiegati comunali in merito al presunto utilizzo per scopi personali dei mezzi di proprietà del comune, ma come detto non vi sono ancora notizie e comunicazioni ufficiali dunque aspettiamo aggiornamenti ufficiali su questa vicenda e qualora ci saranno chiaramente ve li daremo. Ed ora all'omicidio della piccola Elena, a pomeriggio si celebreranno i funerali della bambina nella cattedrale di Catania e alle ore 17 è prevista chiaramente una grande affluenza di persone desiderose di dare l'ultimo saluto alla piccola Elena e per questo l'accesso alla basilica sarà permesso dall'ingresso laterale di via Vittorio Emanuele che sarà raggiungibile soltanto percorrendo la via Raddusa mentre l'entrata principale della cattedrale sarà riservata esclusivamente al feretro. Intanto per quanto riguarda gli sviluppi sull'indagine e sulle dinamiche dell'omicidio della piccola Elena emergono nuovi e inquietanti dettagli. La bambina ad esempio aveva una busta nera in testa quando è stata assassinata dalla madre Martina Patti. L'ipotesi investigativa ha trovato maggiore consistenza dopo che durante accertamenti medico-legali è stata esaminata la busta con dei tagli compatibili con colpi di coltello, ricostruzione che è stata confermata da fonti della procura. Intanto Martina Patti ha confessato di avere ucciso la figlia Elena ma lo ha fatto soltanto dopo che suo padre l'aveva rassicurata che il sentimento per lei non sarebbe mutato qualunque azione lei avesse commesso. Dopo la donna ha rotto il silenzio, ha iniziato a confidarsi, ha detto che la bambina non c'era più e si è mostrata disponibile con gli inquirenti portandoli sul luogo dove aveva seppellito il cadavere di Elena. Queste dunque le ultime notizie su questa tragica vicenda, ovviamente nel pomeriggio seguiremo i funerali, vi daremo tutte le notizie e gli aggiornamenti del caso. Cambiamo adesso argomento, parliamo del vaiolo delle scimmie, primo caso stavolta confermato anche in Sicilia per la precisione a Palermo all'ospedale civico, questo primo caso diagnosticato di vaiolo delle scimmie, diagnosticato dall'infettivologo Tullio Prestileo che dirige l'unità operativa patologie infettive nelle popolazioni vulnerabili dell'ospedale civico di Palermo. Il paziente, una quarantenne del capologo siciliano il quale ha contratto la malattia a Londra una decina di giorni fa dopo essere stato a contatto con un positivo, poi giovedì scorso ha accusato i primi sintomi. L'esame eseguito al laboratorio di virologia del Policlinico di Palermo dei professori Giovanni Gianmarco e Donatella Ferraro ha confermato la diagnosi, quindi adesso è ufficiale primo caso di vaiolo delle scimmie anche in Sicilia. Parliamo invece di Covid, andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, bollettino che ci dice che i nuovi positivi sono in netto aumento in Sicilia, sono stati infatti ben 5.559 i nuovi casi di Covid registrati a fronte di 22.365 tamponi processati nell'isola, tasso di positività al 24,8% e Sicilia al quinto posto in Italia per numero di nuovi contagi. Gli attuali positivi sono 56.666, i guariti invece 2.011, si registrano purtroppo altre 7 vittime e il conto totale dei decessi dall'inizio della pandemia sale così a 11.128, dato che chiaramente si riferisce soltanto alla Sicilia. Per quanto riguarda i numeri ospedalieri sono 634 al momento i ricoverati, 18 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva ci sono 22 persone, in questo caso un decremento di 4 unità rispetto al giorno prima. Palermo e Catania continuano a essere le province con il maggior numero di nuovi casi, per la precisione 1811 a Palermo, 1475 a Catania, poi Siracusa con 654, Messina con 560 nuovi casi Covid, Ragusa con 490 e poi via via le altre province con dati di nuovi positivi decisamente più bassi. Ribadiamo, questo si tratta, che abbiamo appena visto, è l'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute inserata chiaramente quando usciranno i dati aggiornati, ve li daremo nel corso delle nostre edizioni di Spazio Notizia. Ed ora parliamo di maturità, sono cominciati oggi gli esami, sono impegnati oltre 539 mila studenti, dicevamo oggi la prima prova d'italiano, la prima prova scritta alle 8.30 è stata pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione la chiave elettronica con la quale le scuole possono decrittare le tracce. Per quanto riguarda proprio le tracce ve ne elenchiamo alcune, ad esempio la comprensione e analisi e interpretazione di una poesia di Giovanni Pascoli, mentre per quanto riguarda l'analisi di un testo argomentativo la sola colpa di essere nati di Gerardo Colombo e Liliana Segre. E poi viene proposto anche un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021. Tra gli autori delle tracce anche Giovanni Verga con la novella Nedda, bozzetto siciliano, mentre ai maturandi che escono chiaramente da un periodo di dad, ai maturandi è stato proposto anche l'argomento dell'iperconnessione, tienilo acceso, posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello. Una riflessione a partire dal libro della linguista Vera Gheno e il giornalista e filosofo Bruno Mastroianni. Questi quindi alcuni dei temi per quanto riguarda la prima prova d'italiano, la prima prova scritta per i maturandi ai quali ovviamente facciamo il nostro in bocca al lupo. Numeri positivi invece all'aeroporto di Palermo, l'aeroporto Falcone Borsellino, numeri che testimoniano finalmente una fase di netta crescita con l'emergenza dovuta al Covid che adesso sembra davvero essere alle spalle, ci sono veramente dei segnali di ripresa e di ripartenza. Questi numeri con l'aeroporto di Palermo che ha superato il livello traffico passeggeri del periodo pre-Covid, per l'esattezza del periodo dal primo gennaio al 20 giugno 2019. Nel 2022 quindi quest'anno si parla di 2.939.795 passeggeri, nel 2019 invece erano stati 2.939.642. Maggio si è chiuso con oltre 704.000 passeggeri, mentre le stime del mese in corso, del mese di giugno indicano 730.000 viaggiatori e poi per luglio e agosto è previsto il record di 800.000 passeggeri in transito, quindi questa è certamente un'ottima notizia. Restiamo invece a Palermo ma cambiamo decisamente argomento, se restiamo a Palermo per parlare del ritrovamento di una tomba durante i lavori per la realizzazione del collettore fognario sud-est della città di Palermo nel cortile Criscione in via Colonna Rotta. Il rinvenimento di questa sepoltura, vedete anche dalle immagini, probabilmente databile al III secolo, rinvenuta nell'area ai piedi di Piazza Indipendenza. Rinvenimento, dice l'assessore regionale Samonà, che apre nuovi interrogativi e offre opportunità di ulteriori ricerche in un territorio molto ricco di stratificazioni storiche. I nostri archeologi, aggiunge Samonà, stanno effettuando approfondimenti e indagini che ci consentiranno una lettura più completa e puntuale del sito e del materiale emerso dallo scavo. E ci fermiamo qui, chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia, ma ovviamente vi aspettiamo più tardi sempre su Sicilia 24. A dopo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS